Il GIP ha disposto l'archiviazione per gli ultimi due indagati, ma le indagini sul maniaco delle coppiette non sono finite. Giulia Baldi. L'inchiesta sul mostro di Firenze perde un filone di indagine. Archiviazione, come chiesto dall'accusa, per Giampiero Vigilanti, 90 anni, il prossimo 22 novembre, ex legionario, che ora vive in una casa di riposo a Prato. Idem per il medico Francesco Caccamo, 89 anni. Il GIP ha respinto l'opposizione della parte civile e dei familiari delle ultime due vittime uccise nel 1985, Nadiane Moriot e Jean-Michel Cravecivili. Le nuove indagini scientifiche, scrive la giudice, svolte in modo serio e approfondito, non hanno consentito di acquisire elementi che consentano di sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di Vigilanti e Caccamo. Ciò detto, conclude l'ordinanza, l'archiviazione non comporta preclusioni di nessun tipo. In qualunque momento nuove emergenze possono condurre ad una riapertura delle indagini. E su questo punta la difesa della famiglia di Carmela Denuncio, che aveva presentato delle memorie difensive. Sicuramente non chiude l'indagine sul mostro, che continua, perché c'è l'indagine sulla pistola e sui depistaggi. Non solo. Le sentenze definitive sui cosiddetti compagni di merende riguarda i delitti dal 1982 in poi. Ma Carmela Denuncio e Stefano Foggi vennero uccisi nel giugno del 1981. Per la loro morte nessuno è stato condannato. Stiamo lavorando con l'avvocato Mazzeo per acquisire, stiamo acquisendo degli elementi che possono essere interessanti, che presenteremo presto in procura. Non ce l'ha fatta Andrea Alana.